eccoci qua coppia che scoppia tappa numero 4 allora oggi cronocopia prima esperienza con una coppia era un percorso di 31 chilometri con 800 metri mille metri una roba qui le mesi quello è tutto un dentro fuori strappetti tanti sentierini si partivamo come se no otta ultimo si ottavo ultima coppia quindi tutto bello scavato polvere abbiamo cambiato un po zona siamo venuti giù cambiato anche il tipo di percorsi si è cambiato sia il tipo di percorso che il tipo di terreno qua molto più secco bricciolino poca terra molto molto a polvere c'è anche un bel tratto con tutta la strada inghiaiata destra sinistra destra sinistra che tirava a scendere e mi sono imbarcato praticamente in tutte le curve non siamo caduti siamo stati bravi sì e figo dai non siamo neanche andati poi così male no siamo andati forte dai e cosa abbiamo fatto ottavi oggi ottavi in classifica generale quindi consolidato il nostro la nostra gc sì e niente dai parliamo anti dei numeri oggi siamo andati fortissimo ho guardato un'ora e 18 ci abbiamo messo sì sono usciti per me che sono 66 kg 387 watt una cosa disumana e niente domani abbiamo la tappa reggina domani tappa reggina la più lunga 92 chilometri per circa 2.000 2.200 metri di slivello che si detti così magari non sembrano tantissimi su 90 chilometri però la differenza la differenza di gian dove appunto avevamo territorio un po più di salite lunghe discese lunghe qui è molto più collinare un po stile cross country quindi ci saranno molti sentieri un po simile a quello che abbiamo fatto oggi quindi dentro fuori sentiero nervoso strappo e fare 90 chilometri così penso che non sarà una cosa c'è poi l'hanno nominata tappa reina ci sarà un motivo la tappa reina in poche parole tutti lavorano vincere sarà un po meno selettiva per le salite lunghe però un troiaio in poche parole sì sicuramente divertente però sarà da fare spallate per entrare nei primi sentieri e penso che anche fisicamente sarà è vero di spalle schiena però per la prima volta abbiamo tirato fuori le gambe al vento le braccia oggi ci siamo bronzati 28 gambani manicotti è stata una bella esperienza è stata divertente e no la cosa divertente è quando diventa tecnico in discesa che mi sento dire da diego da dietro mo la la mo la la ma in realtà oggi siamo vati diciamo che come come previsto il lavoro il grosso lavoro hai fatto sempre te davanti sia in salita che anche in discesa ma non abbiamo praticamente perso niente in discesa anzi abbiamo recuperato più di una coppia anche discesa è stato figo e anche dei tempi abbiamo visto che non siamo scesi così male quindi dai in realtà siamo andati bene sia in su che in giù perfetto quindi la tappa crono è andata la tappa reina vediamo di passare domani e adesso in classifica abbiamo tipo un sacco da quelli davanti e tipo quattro minuti da quelli dietro sì una cosa del genere mi sembra sette otto minuti da quelli davanti non sarà difficile da anche perché sono arrivati davanti anche oggi sono vanno forte e quattro da quelli dietro quindi noi dobbiamo guardare quelli dietro sì diciamo che dobbiamo cercare di mantenere la nostra classifica il casino che abbiamo anche chiaro e failli che non abbiamo nominati oggi però sono andati forti sono sempre secondi classifica generale quindi noi oltre a fare la nostra gara dovremmo anche dare un po un occhio loro e vedere un po come si evolve la gara perché ti ricordo anche che ci sono anch'io quando tu gli darei una mano ricordati che è anche un compagno dietro che sta soffrendo le pene d'inferno no e noi siamo un po il jolly no quindi essendo la coppia di riserva dobbiamo sempre dare un cercare almeno insomma di sostenere la squadra sperando che non abbiano bisogno ma nel caso nel momento ci fosse bisogno ci dobbiamo cercare di stargli vicino esatto adesso il dubbio è domani tappa lunga la gente correrà sempre come come dei pazzi in partenza o ci pensano che devono fare quattro ore di mountain bike io non penso penso che anche domani il ritmo sarà molto alto fin da subito anche perché adesso ci si giocano la davanti ci giocano le posizioni sai del podio eccetera quindi non penso proprio che domani stiano a guardare i 90 chilometri e pensino di fare una gara regolare anzi quindi ci sarà da stringere i denti parecchio anche domani quindi prevede domani partenza fiamma e poi la gente inizierà a spegnersi e troveremo i cadaveri per strada sperando di non essere tra questi no esatto quindi hai capito sopravvivenza domani dobbiamo cercare di cercare di andiamo pensando ai 91 chilometri esatto non come oggi magari che facciamo le salite a 400 500 o quelli che erano non lo so oggi è crono ecco domani non è crono ricordalo che domani non è crono dai ciao ragazzi ci vediamo domani se sopravviviamo ciao ciao ciao